Salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo veloce video perché ieri Apple ha rilasciato due nuove versioni di iOS 10. Sto parlando di iOS 10.1.1, una versione minore che introduce soltanto delle migliorie di sicurezza e di velocità, che è stata rilasciata per il pubblico, ed è la prima beta di iOS 10.2. Qui invece le cose cambiano perché iOS 10.2, seppur non ancora disponibile per tutti ma soltanto per gli sviluppatori, introduce tante novità importanti e belle ai nostri iPhone, iPod e iPad. In questo video dunque ve le voglio mostrare tutte sul mio iPhone 7 Plus, fare un veloce confronto con iOS 10.1.1 e a fine video vi mostrerò anche come poter installare iOS 10.2 Beta 1 senza dover essere registrati al portale Apple come sviluppatori. Bene, come vi dicevo ci concentreremo molto di più sulla 10.2 visto che è quella più corposa. L'aggiornamento è stato fatto tramite OTA, quindi direttamente dal dispositivo, e il peso era di circa 2 GB, poco meno. Come vedete ora sul mio iPhone 7 Plus c'è scritto 10.2 numero build 14C5062E. Ma non dilunghiamoci troppo in chiacchiere, sulla destra avete il mio iPhone 7 Plus con la 10.2, sulla sinistra il mio iPhone 6 con iOS 10.1.1 14B100, anch'esso appena installato da ieri. Senza perdere tempo vi mostro tutte le novità della 10.2 tenendomi la più importante per ultima. Prima di tutto abbiamo dei nuovi sfondi, infatti andando in impostazioni sfondo, ne troviamo tre nuovi classici, che sono questi delle bolle che si sono visti anche alla presentazione Apple. Ma non solo non li troviamo sulla 10.1.1, bensì non li troveremo neanche su nessun altro dispositivo, fatta eccezione per gli iPhone 7 e iPhone 7 Plus, quindi questi sono esclusivi per gli ultimi due iPhone rilasciati. Abbiamo quello della bolla blu che si abbina all'iPhone Jet Black, la bolla rossa che invece si abbina al mio è l'iPhone nero opaco, e infine la bolla arancione che si abbinerebbe a quello oro. Non so come mai l'oro rosa se lo sono persi per strada. Purtroppo niente nuovi sfondi animati oppure dinamici, sarebbe stato molto bello se le bolle fossero stati degli sfondi animabili con il 3D Touch. Seconda novità, abbiamo un nuovo widget per l'app Video. Infatti facendo uno scorrimento verso destra, quindi invocando il centro dei widget, andando in basso e premendo sul bottone Modifica, vediamo che possiamo aggiungere questo nuovo widget dell'applicazione Video. C'è il pallino di Nuovo, ovviamente viene proprio dall'app di sistema, e quello che consente è mostrarci un'anteprima dei video che sono all'interno dell'applicazione. Per esempio io premo su questo film e in pochi secondi mi spedisce direttamente alla pagina di video dalla quale posso guardarlo. La terza novità non l'ho proprio capita, perché si attiva andando in Impostazioni, Generali, Accessibilità, Tasto Home, e qui troviamo questa nuova voce. Tieni premuto per parlare. Vi spiego cosa dovrebbe fare. Ovviamente si riferisce al tasto Home, quindi ci permette di scegliere cosa deve accadere quando io tengo premuto il tasto Home, se attivare Siri, se attivare il controllo vocale, oppure se non fare niente. Affinché tutto ciò funzioni al meglio, bisogna attivare Ei Siri, capirete perché tra un attimo. Se non sapete cos'è Ei Siri, è quella tecnologia che vi permette di attivare Siri senza toccare il dispositivo, bensì semplicemente pronunciando Ei Siri. Quindi lo attivo, facciamo continua. Ei Siri. Ei Siri. Ei Siri. Ei Siri, che tempo fa oggi? Ei Siri, sono io. Ok, adesso che Ei Siri è stato attivato, vi posso mostrare la nuova funzione presente in accessibilità. Quindi, se noi teniamo spuntata la voce Siri, non cambierà niente, perché tenendo premuto il tasto Home posso accedere a Siri, e la posso invocare anche, state a vedere, pronunciando Ei Siri. Eccola qui. Se invece premiamo controllo vocale, la logica di questa nuova funzione dovrebbe essere questa. Se tengo premuto il tasto Home, si attiva il controllo vocale, mentre se pronuncio Ei Siri, si dovrebbe attivare Siri. Ma come vedete, non funziona. Ei Siri, non succede niente. Stessa cosa per non attivo. Non attivo dovrebbe disabilitare Siri soltanto se tengo premuto il tasto Home, ma lasciarla attiva per la funzione Ei Siri. E invece vediamo che questa funzione disattiva Siri, quindi non ha motivo di esistere, perché se volevo disattivare Siri, mi bastava appunto disattivarla dalla sua voce specifica delle impostazioni. Quindi io voglio sperare che sia un bug, anche perché su iOS 10.1.1, come vedete, in accessibilità da Stoom non c'è questa voce, quindi dovrebbe essere una nuova funzione, però per favore Apple falla in modo sensato, perché altrimenti non ha senso. Altra novità minore per i dispositivi 3D Touch, quando invochiamo appunto il menu del 3D Touch, la trasparenza è un po' più accentuata, i colori dello sfondo influenzano un po' di più il menu sfocato, al quale siamo tutti abituati. Passando a un'altra novità, nell'applicazione Messaggi è stato aggiunto un nuovo effetto visivo per inviare un nuovo messaggio. Abbiamo quelli già conosciuti come i palloncini, i coriandoli, la discoteca, i fuochi di artificio, la stella cometa e poi questo. Si chiama Celebration e è una specie di festival appunto, con tutte le luci e i fuochi di artificio, un mix di tutto. Purtroppo queste funzioni sono disponibili solamente sui dispositivi con 3D Touch. Ad ogni modo speriamo che Apple ne aggiunga altri, perché sono veramente carini questi effetti con i quali si possono mandare messaggi. Altra novità importantissima, tutti coloro che hanno un Apple Watch aggiornato a WatchOS 3 sapranno che esiste SOS Emergenze, che fino ad ora permetteva soltanto di chiamare il numero di emergenza. con iOS 10 Beta 2 permette dall'iPhone di selezionare un contatto di emergenza al quale invierà un messaggio seguito dalla nostra posizione istantanea quando faremo lo scorrimento per invocare appunto l'SOS. Altra novità che ho apprezzato molto, andando in impostazioni, notifiche, solo per alcune app come per esempio messaggi, sul fondo è presente questa nuova voce, ossia mostra anteprime. Le opzioni si sono dimenticati di tradurle, ma il funzionamento è intuibile. Ci permette di nascondere il contenuto di una notifica quando il dispositivo è bloccato, se scegliamo When Unlocked. Oppure no, non ce lo mostra proprio. Cioè ci arriverà soltanto una notifica con scritto ti è arrivato un messaggio, ma per vederla dovremmo aprire l'applicazione. In questo caso io lascio When Unlocked e vi faccio vedere la differenza. Se ora provo a mandarmi un messaggio sull'iPhone con iOS 10.1.1 che non supporta questa funzione, si vede il contenuto del messaggio, che in questo caso è Ciao. Proviamo invece ora sul mio iPhone 7 Plus. Vedete che lo stesso messaggio appare, appare il contatto di chi me l'ha mandato, ma il testo è oscurato dalla voce semplicemente iMessage. E appena lo sblocco, in questo caso con l'impronta, ecco che il testo diventa in chiaro. Ovviamente questa funzione è ancora in beta, quindi funziona soltanto con le applicazioni di sistema. Speriamo che in futuro Apple possa estendere la compatibilità anche con applicazioni di App Store come WhatsApp o Telegram. E ragazzi, finalmente la novità più attesa. Abbiamo tonnellate di nuove emoticons. Ce ne sono veramente troppe nuove, sono bellissime, e quelle che invece abbiamo sempre visto sono state anche esse modificate. Hanno un look molto più dettagliato, molto più con un effetto rilievo. Sembrano più veritiere, più reali. Questo deriva dal supporto che iOS ha introdotto al nuovo standard degli emoticons presenti in Unicode 9. E adesso veramente potete pensare a qualsiasi cosa esiste un emoticons che lo esprime. Ora vi sto dando una visuale da più vicino, vedete che c'è l'emoticon che si ribalta dal ridere, quello del pagliaccio, quello, non so che razza di espressione è questa, quello che si soffia il naso, quello di Space Invaders, del retro, fantastico. Invece vedete che proprio gli emoticons normali sono anch'essi diversi, sono più profondi, più dettagliati. Abbiamo emoticons pazzeschi come questa mano che tiene in mano un iPhone, il professore, la ragazza col MacBook, la moglie di Babbo Natale, signori, non pensavo neanche esistesse. Oppure andate in Animali e Natura, io adoro il nuovo emoticons del leone e della volpe, oppure anche delle scimmiette e dell'orso, sono bellissimi. Abbiamo i nuovi emoticons dei polpi, delle piante, dello scoiattolo. Guardate gli emoticons del mondo, della luna, del fuoco, delle stelle, della meteora, dell'arcobaleno. Sono bellissimi. Il cibo, il cibo è molto più crispy, mi verrebbe da dire, sembra croccante, sembra più reale. E invece in viaggi e luoghi non abbiamo molto di nuovo, abbiamo semplicemente degli emoticons un po' rivisti. A parte questo qua del diamante, che mi sembra molto diverso rispetto a prima, ma in generale ottimo lavoro Apple, anche con tutti i cuori. Ora il cuore rosso è decisamente diverso, hanno aggiunto il cuore nero, che brutta storia. E poi ci spostiamo tra i simboli, tra le ore e poi tra le bandiere, che invece sono sempre le stesse, grazie a Dio. Veramente complimenti Apple per l'aggiunta di questi nuovi emoticons con Unicode 9. Comunque in descrizione vi lascio la pagina dell'Encinclopedia, dove c'è una lista ben più dettagliata della mia di tutti i cambiamenti. E ora vi faccio vedere queste immagini più da vicino dei vari emoticons. Giusto per farvi un paragone, vedete che su iOS 10.1.1 ci sono ancora quelli standard ai quali siamo abituati sin dalla 10.0, beta 4, e il paragone che vi dicevo prima del serpente. Guardate la differenza tra il serpente e il dromedario di prima e quelli invece nuovi della 10.2. Io li trovo bellissimi. Poi abbiamo proprio nuovi tipi di emoticons, come la donna che si dispera, il maschio che dice che cazzo vuoi? Nuovi emoticons per gli animali, nuovi emoticons per la frutta, guardate il dettaglio della pera. E poi abbiamo nuovi emoticons di queste signore che fanno cose, per esempio l'astronauta, il poliziotto e altri lavori. Quindi ragazzi, queste erano tutte le novità più importanti introdotte da iOS 10.2 beta. Se lo volete installare, avete due possibilità. O aspettate pochi giorni affinché esca una beta pubblica, quindi installabile da chiunque, oppure lo potete installare già da ora installando da una fonte di terze parti il certificato da sviluppatore. Per farlo potete seguire la video guida che ho pubblicato ormai mesi fa su come installare iOS 10.0 beta. Il procedimento è identico anche per iOS 10.2 beta, quindi potete raggiungerla cliccando qui. Oppure vi lascerò anche il link sotto in descrizione. Detto questo ragazzi, se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su che mi rende sempre molto felice. Seguitemi su tutti i miei social network, i link come sempre ve li lascio qua sotto giù in descrizione. Se volete aiutarmi a crescere potete tranquillamente condividere questo video dove volete. Ma soprattutto ragazzi, la cosa più importante iscrivetevi al mio canale e noi ci rivediamo in un prossimo video.